Il metodo migliore per stirare le camice, come è noto, è quello di farsele fare, magari da compassionevoli familiari, ma a volte in questo mondo spietato occorre munirsi di ferro da stiro, magari a caldaia ed ancor meglio se 39,99 euro, come il modello Enco distribuito da Eurospin. Acquistato, spacchettato, l'esto mi accingo a trasformare carta pesta in seta, ovvero che stracci e cenci stirati a dovere. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. 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 Ciao.